I carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato in flagranza per furto aggravato un 26enne rumeno pregiudicato. Al riguardo gli operanti, a seguito di una segnalazione alla centrale operativa del comando provinciale carabinieri di Catania, sono tempestivamente intervenuti presso un fast food di Vietnea dove poco prima era stato rubato il cellulare dal valore di diverse centinaia di euro a una 38enne catanese cliente dell'attività di ristorazione. In particolare la vittima, al momento di pagare il conto, era stata avvicinata dal giovane ladro il quale, approfittando della sua temporanea distrazione, si era lestamente impadronito del telefonino per un attimo appoggiato sul bancone vicino alla cassa. Immediate le battute di ricerche che, anche grazie al limitato lasso di tempo intercorso dal furto, hanno permesso di rintracciare il malvivente all'interno di un vicino negozio di profumi. Quest'ultimo, dopo la perquisizione, è stato effettivamente trovato in possesso del cellulare, subito restituito alla proprietaria, visibilmente sollevata dal suo celere ritrovamento.